Alla ricerca della soluzione definitiva per il tuo problema di cimici dei letti, non cercare oltre. Il trattamento per le cimici dei letti prodotto da Bad Bug Knocker è l'elimina cimici definitivo. Con una protezione a lunga durata, le tue superfici trattate rimangono libere da cimici dei letti per fino a 6 mesi. È sicuro per te e i tuoi animali domestici. Bad Bug Knocker è l'unico trattamento che garantisce un tasso di successo del 100%. Soddisfazione garantita o ti restituiamo i soldi per 6 mesi. Può essere applicato su tutti i tipi di superfici biancheria da letto, tende, arredi, lavori in legno, pareti e molto altro. Applicazione senza sforzo. Segui questi semplici passi. Spruzza Bad Bug Knocker su tutto ciò che è stato menzionato sopra. Aera la stanza durante il trattamento. Indossa l'attrezzatura di protezione. Non aspettare. Visita www.badbagnocker.it e ordina ora. Bad Bug Knocker la tua vita senza cimici dei letti inizia qui.